I volontari della protezione civile scenderanno in piazza a Teramo il 12 e 13 ottobre per insegnare a tutti le buone pratiche in caso di calamità naturali. Io non rischio, non è solo lo slogan di questa campagna nazionale, ma è un proposito, una battaglia pacifica che ciascuno è chiamato a condurre per rendere più sicuro se stesso e gli altri. I volontari della protezione civile quanto hanno aiutato il territorio terramano? Direi che l'intervento dei volontari è stato fondamentale, quindi direi tantissimo. Qual è stato il disastro ultimo che avete vissuto? Credo che bisogna tornare al 2016-2017 che purtroppo ha fatto vittime sia da matrice sia nei comuni limitrofi a partire appunto dal 24 agosto, la stessa Gran Sasso il 24 a mattino era già ad accumuli. Voi scendete in piazza e qual è il vostro messaggio? La protezione civile si articola e deve fare quattro attività principalmente, quella di prevedere, prevenire, soccorrere e far tornare alla normalità. In queste giornate noi ci limitiamo a mandare e a dare notizie ai cittadini, informare i cittadini sul comportamento in caso di calamità. Tutti in piazza dunque a Teramo con i volontari della protezione civile che informeranno i cittadini in particolare sul rischio sismico, sul rischio alluvione, sul maremoto e anche sul rischio vulcanico.